La riabilitazione cardiologica, anche detta cardiologia riabilitativa, è una branca a tutti gli effetti della cardiologia. La mission è quella di impattare positivamente sulla qualità di vita del paziente che esce da un evento cardiologico acuto, sia esso un infarto o un intervento cardiochirurgico, ma soprattutto sulla sua qualità di vita. Solo il 30% dei pazienti che escono da un evento acuto hanno la possibilità di accedere a una riabilitazione cardiologica. In questi riusciamo a ridurre il rischio di riammissione ospedaliera o di mortalità di più del 30%. Se rivediamo questi numeri da un altro punto di vista, significa che impedire o non consentire a un paziente che abbia avuto un infarto o sia stato operato al cuore di accedere a un programma di cardiologia riabilitativa significa esporlo a un rischio aumentato del 30% di mortalità o di riammissione in ospedale. È un po' come non suggerire un antipertensivo a un paziente con la pressione alta o non mettere uno stent a un paziente con un infarto. Questo non è legato ovviamente a una cattiva volontà, ma al fatto che in Italia sono solo 220 centri di cardiologia riabilitativa, che sono pochissimi, sono un centro per ogni 300.000 abitanti e solo il 10% di questi, quindi solo una ventina in Italia, sono i centri come Maria Pia che hanno la possibilità di accogliere precocemente questi pazienti e trattarli in terapia subintensiva con dei letti adeguati. La cardiologia riabilitativa rientra nel programma di cura di un paziente che esca da un evento cardiologico acuto, sia esso un infarto del miocardio, sia esso un intervento cardiochirurgico, bypass coronarici per rivascolarizzazione miocardica, sostituzioni valvolari, interventi in urgenza quali le dissezioni aortiche. Questo più storicamente. Molto più recentemente lo scenario si è ampliato, i pazienti sono molto più complessi. È entrato nel bagaglio di cura della riabilitazione cardiologica lo scompenso cardiaco, una piaga sociale dei nostri tempi. Si è capito che trattare proprio come terapia il paziente scompensato in cardiologia riabilitativa modifica positivamente la prognosi in modo significativo. Le tecnologie cardiologiche e cardiochirurgiche sono notevolmente migliorate e quindi giungono in cardiologia riabilitativa pazienti che siano stati sottoposti a sostituzioni valvolari aortiche per via percutanea o a riparazioni mitraliche per via percutanea, quindi TAVI o MitraClip e sono tendenzialmente pazienti molto anziani e fragili. A questi si aggiungono pazienti altrettanto se non più fragili quali pazienti che iniziano un percorso di trapianto cardiaco o escono da un trapianto cardiaco e pazienti portatori di cuori artificiali meccanici, pazienti estremamente fragili anch'essi che hanno una necessità di assistenza e di cura nell'immediato molto alta, ma che hanno anche bisogno di un trattamento multidisciplinare proprio per essere riaccompagnati a casa. A Maria Pia da 5 anni si lavora su un programma dello scompenso cardiaco a tutto tondo. Lo scompenso cardiaco è il cancro da un punto di vista sanitario di questo millennio. Si è capito ormai da anni che questa patologia va affrontata a 360 gradi. Abbiamo messo a punto un ambulatorio dello scompenso cardiaco con una altissima fruibilità, aperto tre giorni alla settimana. Il paziente ha facilità di accesso, il medico ha la possibilità di seguire costantemente il paziente scompensato e, se necessario, di ricoverarlo su letti dedicati, di degenza ordinaria, ma anche di terapia subintensiva, laddove le cure richieste siano più intensive e la monitorizzazione più alta. Quando il paziente sia stabilizzato è possibile trattarlo da un punto di vista emodinamico o aritmologico o elettrofisiologico. Alla stabilizzazione ottenuta può essere trasferito in riabilitazione cardiologica per un ciclo completo. Solo a questo punto il suo cardiologo lo riceverà in ambulatorio in modo da chiudere perfettamente il ciclo. Il percorso assistenziale in cardiologia riabilitativa è storicamente multidisciplinare. Il cardiologo va affiancato dal infermiere, dal fisiatra e dal fisioterapista per tutto quanto riguarda il discorso motorio e dallo psicologo e dalla dietista. Negli ultimi anni i pazienti che afferiscono alla cardiologia riabilitativa sono estremamente più anziani e complessi e, gioco forza, è stato necessario inserire un numero di professionisti e specialisti che affianchino il cardiologo in questo trattamento. Si pensi al nefrologo e all'infettivologo, che sono indispensabili oserei dire quotidianamente, al diabetologo, al neurologo, ma soprattutto penso alla figura del cardiochirurgo. La figura del cardiologo e del cardiochirurgo oggi sono strettamente in legame. Hanno capacità e competenze simili ma diverse che non possono più che andare a braccetto. Si pensi all'aspetto clinico per quanto riguarda il cardiologo e chirurgico per quanto riguarda invece il cardiochirurgo. Patologie ormai complesse, trattate in modo complesso, non possono più prescindere dalla specializzazione di questi due professionisti. L'equipe in cardiologia riabilitativa è storicamente multidisciplinare. Si affiancano al cardiologo infermieri, fisioterapisti con i fisiatri, psicologo e nutrizionista dietista. Data la complessità e l'età dei pazienti, oggigiorno non si può prescindere da avere specialisti ulteriori. Si pensi al diabetologo, si pensi all'infettivologo, al nefrologo, al pneumologo. La figura cruciale però che si è inserita negli ultimi anni è quella del cardiochirurgo. Affiancare cardiologo e cardiochirurgo anche nella cardiologia riabilitativa oggi è diventato imprescindibile. Il fatto di avere una cardiologia di alto livello e una cardiochirurgia di alto livello a Maria Pia ci consente anche in cardiologia riabilitativa di trattare pazienti piuttosto complessi.